Ciao ragazzacci, io sono M325 e oggi siamo qui su Car Mechanic Simulator 2018 Ordini, ho quest'ordine qui che l'ho guardato, forte quando si accelera, forte cosa? Forte quando si accelera, come dire, oggi no, oggi che ore sono? Non lo so, vabbè perché non c'entra niente Condotto di scarico, malmita catalitica, tubo di scarico e silenziatore intermedio Quindi, prendiamo quest'auto, la spostiamo sul sollevatore A, porca miseria mi stavo affogando da solo, mi stava affogando Quindi mettiamolo questa qui, la solleviamo perché comunque per accedere a queste parti qua, secondo me devi per forza stare sotto l'auto Una bella macchinina questa qui, dovrebbe essere una Nissan GT? Potrebbe esserla, ma adesso io sapete che con la memoria faccio schifo però Quindi rimuoviamo il condotto di scarico, rimuoviamo il sensatore intermedio, rimuoviamo anche questo Ti avvicini là e gli rimuoviamo anche questo, me lo fai togliere? Me lo fa togliere di qua Ho preso tutto, ho preso 4 pezzettini, vediamo se li riesco a riparare Se li riuscisse a riparare senza, guardate qua, c'ho sempre sto coso qui, io non capisco da dove sia possibile, ok Cioè, io vado poi nell'inventaggio, ho riparato questo pezzo, non c'è, non c'è, vediamo nei cerchi E non c'è, non c'è, gruppi, carosserie, c'ho un cerchio che non mi fa, non mi fa riparare Vabbè, ripariamo, vuoi vendere? No, non voglio vendere, volevo ripararli ma non posso riparare Quindi dobbiamo comprare tutte le cose, quindi andiamo in modalità montaggio, dovrei poter riparare tutto Quindi mettiamo il tubo di scarico, penso di aver comprato tutto, non ho potuto riparare niente, quello è il problema Mi dà fastidio, vuoi farti un po' più indietro se no, non vedo niente, sia in settore intermedio, ho già comprato Il condotto di scarico finale, glielo metto subito, abbiamo rifatto, l'abbiamo fatta subito, l'abbiamo fatta sta macchina C'è neanche il tempo di gustarmela un po', andiamo nell'inventario come sempre, ripulite l'inventario Perché se no si incasina tutto e in più sono soldi, facciamocene un altro subito al volo Questa qui cos'è che c'ha? Forte quando si accelera, scusami, tutti forte quando si accelera Vengono lì, la macchina forte quando si accelera, va bene, che vuol dire forte quando si accelera? Tubo di sezione dello scarico anteriore e collettore di scarico Ah, quindi ne ha solo due, questi qua sono lavoretti semplici e veloci ragazzi Semplici e veloci, ce li cacciamo in un secondo, ce li cacciamo che è la fine del mondo Quindi fammi entrare qui, voglio capire una cosa, dov'è quella parte, la parte della sezione anteriore Che non vorrei fosse, so, allora vedi qua, questa qui è un po' più difficile da fare Quindi esci di qua, gentilmente, apri il cofano, questa è da smontare, adesso è un po' più rognosetta Più rognosetta, toglimi questo, perfetto, sono, questo qui è il condotto, è una protezione contro il calore Toglimi anche questo, speriamo che mi faccia togliere tutto da sopra, se no devo alzare e abbassare e divento pazzo Quindi puliamo tutti questi, questi bulloncini, non ci vuole niente a toglierli, quindi va bene così E questo qui, no, devo per forza alzarla, quindi alziamo la macchina E intanto che la macchina si alza, ho cliccato, sì, vado a vedere se posso riparare questo Me lo fai riparare? Non mi fa riparare un bel niente, non mi fa riparare, che bella la vita Non poter riparare neanche i pezzi, neanche provarci, almeno fammi provare Quindi fatemi comprare i pezzi che mi servono Quindi andiamo al montaggio, spero di aver comprato le parti giuste Io di solito faccio abbastanza confusione nel comprare i pezzi, abbassiamo la macchina Anche questo è un bell'ordinino, che magari ci permette anche di sbloccare un altro punto Sbloccando i punti, secondo me, riusciamo ad avere cose più importanti, non carichi In macchine più difficili da riparare, più intelligenti, con cose più difficili Ed è sempre utile, peraltro ho sbloccato l'OBD, non l'ho mai usato Bello, mi fa proprio piacere questa cosa qui Aver comprato dei pezzi, aver sbloccato degli attrezzi e non averli mai usati Quindi chiudiamo questo, chiudiamo questo, la macchina è pronta Scusi signor proprietario, la sua macchina è pronta Quindi ciao macchinina, dobbiamo farne un altro perché questo qui non ce l'ha dato Il motore tubo compresso, verifica un'altra volta questa Ma ero sotto le scatole però questo coso Distribuzione, facciamo, sono tutti uguali Sono abbastanza ripetitivi però dopo un certo punto Cioè, quello lì è costoria Però se tu me lo dici sempre, 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 sempre Poi mi scoccia questa cosa qui Questo qui vuole subito la distribuzione Ha detto che c'erano dei problemi sulla distribuzione Quindi non sto neanche a mettere la macchina lì Come sempre io ci provo a riparare Ma di solito non mi dà mai niente Non mi dà, però vedi che stavolta mi dà Il 10 di cinghie da riparare, quindi io ci provo Me lo sta facendo riparare, me l'ha riparata al massimo Guarda, li ho riparati tutti, li ho riparati Perfetto, perfetto Forse non ho riparato la catena La catena della distribuzione Fammi vedere, qua mi sa che la devo comprare questa Cinghia di trasmissione, sì, devo riparare Devo comprarla, quindi andiamo con la T Sempre col tablet che ci arriva da tutte le parti La cinghia, faccio prima Cinghia di trasmissione, guarda, l'ho già trovata Costa un sacco, 120 dollari, che cos'è? D'oro, me l'hanno data d'oro, me l'hanno data Quindi facciamo così, andiamo in modalità montaggio Siamo a posto, siamo Ragazzi, anche questa qui, io vado bello spedito Sono i primi ordini, quelli più semplici da fare Va bene, però io vado bello che spedito Qua riparo tutto che è una bellezza, riparo Quindi mettiamo questa Forse la pompa dell'acqua non ho riparato Strano, non me l'ha detto neanche di provarci Ecco, questa cosa qui che non mi dice di provare a fare le cose Mi scoccia, io ci provo, a caso mai la rompo, scusa Vedrò un po' io Pompa dell'acqua, vedi, devo comprare la pompa dell'acqua Pompa dell'acqua, T qua, I4, no T4 I4 vuol dire, secondo me, il quattro cilindri in linea Quindi la pompa sarà la P Pompa, pompa, pompa del servosterzo Pompa dell'acqua I4 vuol dire Sì, secondo me è quello Perché V8 vuol dire Otto cilindri a V I4 vuol dire quattro cilindri a I In linea, quindi I no, niente I niente, in linea E quindi mettiamo la pompa dell'acqua nuova Va bene Ok, chiudiamo anche questa Ok, poi mettiamo Mettiamo la cinghia serpentina Che non andava cambiata Mettiamo anche il tendicinia Che abbiamo, no, abbiamo distrutto Ma scusa, io distruggo le cose invece che ripararle Ma com'è possibile? Io distruggo tutto quello che mi passa per le mani Tendicinia, lo troverò mai nella vita Il tendicinia, sì, è qui Quindi tendicinia lo prendiamo 35 dollari, non costa neanche troppo Andiamo di qua Poi facciamo sempre E quello che mi scoccia è che una volta c'erano i pulsanti Con la tastiera Invece adesso devi cliccare quella rotellina Rotellina magica lì per fare le cose E mi scoccia Quindi facciamo così Io penso che la macchina sia a posto Ho cambiato tutto E concludi ordine E possiamo andare a sbloccare Il nuovo punto esperienza Che non è male Quindi andiamo qui Vediamo quello che c'ho Io potrei sbloccare O questo O il misuratore elettronico Che non è malissimo Perché ci torna utile Ci torna veramente utile Quindi sblocchiamo questo Questo è tutto quando devi cercare le cose Poi facciamo inventario Fatemi vendere tutto In questa puntata mi concentrerò soltanto Sulle Sulle parti dei tubi di scarico Perché sono quelli Guarda Malmita catalitica Silenziatore Silenziatore Quindi prendimi sta macchina Me la sposti Sul sollevatore A Ormai io vado solo con questi qua Perché sono i lavoretti più semplici Che ti danno un sacco di punti Senza Senza motivo Inoltre Volevo vedere una cosa Sono arrivato Se non sbaglio A livello 8 Si doveva sbloccare Si doveva sbloccare Non ne sono troppo sicuro La rimessa Ok Mi ha sbloccato delle rimesse Che caspita ci vado a fare In queste rimesse Ragazzi adesso facciamo questa qui Poi andiamo a vedere Che sono ste rimesse Secondo me sono Quelle che in inglese Chiamano barn Però adesso andiamo a vedere Andiamo a vedere subito Quindi finiamo qui E cambiamogli questa macchina A questo tizio Qui Quindi smontami sto silenziatore Non c'è bisogno neanche Di togliere tutto Io ci provo anche a ripararli Andiamo a vedere Che sono ste rimesse Un po' di soldi ce l'abbiamo Quindi se dobbiamo Non sono mai Non ho visto Che cosa sono ste rimesse Quindi Andiamo un attimo Fatemi comprare tutto quello Che mi serve Quindi risistemiamogli La macchina A sto tizio qui Ciao Questi qua ci vuole Un secondo da fare Fateli sempre Questi qua sono Sono ordini semplicissimi Da fare E vi occupano Pochissimo tempo Avete qua Sono soldi Che vi danno Esperienza E tutto quello che volete Andiamo a vedere Che sono ste rimesse Perché io Cioè non lo so Che sono ste rimesse Io non mi spoilero I giochi con i trailer Con le cose Perché mi da fastidio Rimessa 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 O io vado a questa Vado Ci clicco Vediamo che cos'è sta rimessa Se non si blocca sempre Perché Spero Spererei Che non si bloccasse Quindi rimessa Dimmi che cosa c'è Quindi arrivo fin qua E' tutto nero Uh Buongiorno Uh Che figo C'ho C'ho delle macchine Ma scusa Questa macchina qui è bellissima E' quella di Cars No è una Penso sia Allora il frontale Non mi dice niente Però mi sembra Acquista auto Modalità di insieme Fammela vedere Beh bellina Bellina Acquista quest'auto Quanto me la fai pagare? Scusi 52 mila E io dove li prendo 52 mila E questa qui invece Acquistala 20 30 mila Stiamo scherzando Stiamo Io come le compro? E no 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 Non posso comprare niente Come si fa a uscire Moda sto coso? Qua cos'è che c'è? Ti viene premuto Per cercare dei rottami Prendiamoli Prendiamoli Se me li fa prendere Io me li prendo Che me frega Quindi ci sono dei rottami Tipo un minigame Che c'è Qui cosa c'è? Rottami Rubbiamo tutto Rubbiamo Ruba 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 Non lasciare niente Non lasciare Quindi questo va bene Anche altri rottami Ma io rubo che neanche Te lo immagini Se non mi fa pagare A me che me frega Quindi questi me li rubo Li rubo tutto ragazzi Cioè Non ci posso Non so se ci posso tornare Poi qua Spero di sì Perché comunque Non ho comprato niente Non me li fa pagare Questi cosa Rottami che non mi fa pagare Va bene E per tornare a casa Come faccio? Premo Torno all'officina Ho rubato dei pezzi Che io adesso Sapete che faccio? Provo a sistemare E a rivendere O me li tengo Lasciamoli da par No sistemiamoli però E' bello avere queste rimesse Perché queste rimesse Aggiungono veramente Un qualcosa in più Con i rottami Che devi andare a cercare Quindi andiamo fin qua E sono soldi gratis questi Io adesso Sapete che faccio? Io proverei a Sistemare e a vendere tutto Guarda qui Questi qua sono nuovi nuovi sono Io non li riparo nemmeno No lasciamoli No caspita Sapete cosa mi servirebbe? Mi servirebbe Allora le rimesse Lasciamole perdere per il momento Mi servirebbe assolutamente Un magazzino Quindi facciamoci Facciamo tutti questi lavoretti Oggi lavoriamo solo di marmitte Oggi solo Esclusivamente di marmitte Stato della vettura L'auto è molto rumorosa Però non mi dice dove Ah bello Bello Finalmente possiamo utilizzare Possiamo utilizzare Come si chiama? I nostri sensi Che abbiamo sviluppato In questi giorni Quindi L'auto è rumorosa Apriamo qui Fammi vedere che non sia da questa parte Il rumore L'auto è molto rumorosa Non vuol dire niente Ok l'ho già visti Sono sotto la macchina Non ci vuole niente Ve l'ho detto Questi qua sono lavoretti semplici Che fate in due minuti Non è Cioè non vi stanca nemmeno Una cosa che devo fare è arrivare qui Perché mi da un magazzino Il magazzino mi interessa tantissimo Devo assolutamente sbloccare Arrivare a questo punto qua Mi servono 7 punti esperienza E quindi spero di arrivarci Devo arrivarci? No Non mi servono 7 punti esperienza Devo sbloccare assolutamente quello Quindi Andiamo qui sotto Smontiamo il silenziatore intermedio E sblocchiamo questo condotto di scarico Questi qua sono lavori semplici Pagano bene Non rompono le scatole Guarda quanto ne ho Guarda adesso come faccio a trovare le cose Sarà difficilissimo Valvole a farfalla Ma io poi le venderò tutte Le vendo Che me frega Così non ci capisce niente Se no Quindi questo qui Lasciamolo perdere Lasciamolo da parte Allora Io ho fatto un magazzino dei ricambi Adesso non so più quello che devo montare Ecco vedi qua Adesso vado in confusione ragazzi Adesso vado tantissimo in confusione Perché non so più quello che montare Silenziatore intermedio E condotto di scarico Quindi premiamo T Facciamo Negocio principale Facciamo sezione scarico Mi serve un silenziatore Un condotto di scarico E un silenziatore intermedio Montiamo subito questo Perché è un po' un casino Io adesso Riparerò quei pezzi Però che li ripara a fare In questo momento Io non sono capace di ripararli Più il danno che faccio Che il resto Quindi secondo me È uno spreco di soldi Lasciamo questo così E facciamo Stato della vettura Riparato Concludi Soldi Punti E tutto quello che volete Facciamoci un altro ordinino Allora ho preso questa macchina vecchia Perché secondo me È abbastanza intelligente Forse forse abbiamo anche La possibilità di fare L'OBD Vediamo se mi permette Di fare l'OBD Quindi io vado qui In strumenti di controllo Io ho Lo scanner OBD E il misuratore elettronico Facciamo lo scanner OBD Perché quest'auto Non ha la porta L'ho fatta apposta Lo sapevo che non ce l'aveva Perché è troppo vecchia Però il misuratore elettronico Ce l'ha Figo Figo Lui gira Fa off Volt off Ok fa tutto quello che deve fare Mi ha trovato dei punti No Non mi ha trovato dei punti Che non vanno Quindi Devo trovarmi lì un po' a mano È un po' una casino Una casino Un casino Trovarseli un po' a mano Qual è il problema Fammi capire Riparazione generale Del motore Quindi mi sa che devo smontare tutto E qui ci perdo la vita Ci perdo ragazzi Vabbè Iniziamo a smontare E vediamo cosa Cosa riesco a trovare Primo pezzo ho trovato Primo pezzo ho trovato È inutile che fai simpatico T'ho beccato Subito t'ho beccato E anche questo Secondo me è da cambiare Dimmi che è anche questo Dimmi quant'è Quanto è questo pezzo qui 28% Quindi Già due pezzi li ho trovati Ci sono due coperchi Delle albere a cam Devo cercare gli altri due pezzettini Non riesco a trovare Quella parte che mi manca Mi farà esaurire Con il test è di compressione Bello Questo non posso neanche Devo tutto smontarlo Quindi Gli anelli dei pistoni Uh gli anelli dei pistoni ci stanno Devo smontare tutto Devo smontare veramente tutto Qui No dai Da esauriti proprio Ho deciso una cosa Vado a fare un test drive Quindi rimonto tutta l'auto E vado a fare un test drive Perché Secondo me Ci può dare qualche informazione in più E io qua Se no divento matto Non so ne riesco a trovare Dov'è il problema Allora Sono riuscito a trovare Tre difetti Non il quarto Ho smontato mezzo mondo E non sono riuscito a capire dov'è Che non sia il filtro Ma a me il filtro Mi sembra buono di qua Proviamo a smontare sto filtro No Visivamente è buono il filtro È al 72% È buono Allora sapete che facciamo Andiamo a farci un bel giro di prova Perché comunque Il giro di prova Ti dà qualche Qualche suggerimento Quindi Pista di prova Portiamoci questa Non so che macchina è Una macchina un po' vecchietta Potrebbe essere una sub Però non sono troppo sicuro Della sub Guardiamola dall'esterno Dall'esterno non è assolutamente Mai nella vita Una sub Facciamoci con questo giretto Ve lo faccio vedere La pista di prova Non la uso mai Non la uso Perché di solito Per il momento Mi stanno dando loro I suggerimenti Cosa cambiare Però Vedete qua Adesso è utilissimo Non gira mai nella vita Questa macchina Si guida come gli pare E non riesco a trovare Quell'altra parte lì Ho smontato mezzo mondo Sono arrivato ai pistoni Ai pistioni Non so più parlare Sono arrivato ai pistoni E non ho trovato Dov'era il problema Quindi l'accelerazione Potrebbe suggerirmi Un qualche problema Io non gli vado a cambiare Le cose che Faccio il test dei freni Ma non che lo voglio fare Veramente Lo devo fare per poter Terminare qui Questa prova E quindi andiamo di qua Piano piano Non ti perdere nella vita Ok Frena 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 Ok riprobate a frenare Qui dentro Vai Sono fermo E quindi vediamo Che cosa mi dice Se lui mi trova La parte che mi serve Ho risolto il mio problema Perché sennò C'è da smontare La macchina Da testa Da tutta Va smontata Va smontata Tutto il motore In frizione In cambio C'è da smontare Qualsiasi cosa E ci perdo l'anima Ci perdo Fammi vedere Non me l'ha trovato E io che caspita Ne posso sapere Che cos'è Mi scusi Ma che caspita Dov'è il problema Io qua c'ho un altro Un altro test Ma è per i freni Per le cose Io non riesco più A trovare niente Non so veramente Quale può essere Il problema Di quest'auto Ok l'ho trovato Finalmente E' un supporto Del cuscinetto Del cavolo Messo proprio Guarda Nascosto 5% Questo non lo troverò mai Non penso neanche Di poterlo riparare Qui adesso è un casino Perché con tutti questi pezzi Non vedo l'ora di farmi In magazzino Non riesco più a capire Quello che posso E quello che non posso riparare Quindi mi serve Un supporto Facciamolo Ha fatto perdere Tipo 3 ore Sta cosa qui Ci ho messo un sacco di tempo Per finirla Quindi supporto Supporto del cavolo Proprio Io la metto Col chewing Così si rompe di nuovo Supporto Sarà la S Sia mai nella vita Che lo riesco a trovare Al primo colpo E non lo vedo Non lo vedo Pompa Puleggia Rotore Rullo Tendicinchia Supporto Lo vedi dov'è 43 dollari del cavolo Guarda Avrei pagato io 50 Per farglielo fare A qualcun altro Sta cosa qui Questa è una cosa Che potremmo raggiungere Multiplayer ragazzi Multiplayer in questo gioco Che io faccio Io prendo i contratti E gli altri mi montano le macchie Sarebbe carinissimo Sarebbe Non sarebbe male Sarebbe veramente bello Quindi ho tolto l'olio Devo rimettere l'olio L'abbiamo fatto Ce l'abbiamo fatta Guarda Però mi ha fatto diventare matto Sta cosa qui Fammi vedere Sì è tutto a posto Mi ha fatto diventare matto Però ce l'abbiamo fatta Ve l'avevo detto Che era una parte di Qualche zona stupida Mai nella vita Avevo iniziato a smontare Da sopra E ho detto aspetta Però da sopra Io ho controllato già Fammi smontare da sotto Vediamo qui E quindi avevo proprio ragione Quindi mettiamoci questo Fili Questa testata Quindi la parte di sopra Il motore La copertura Credo che sia Coperchia la testata No è giusto Coperchia la testata Quindi mettiamo questo Tappo dell'olio Mettiamoci l'olio E ci togliamo sta macchina Ragazzi sono qui da Tre ore Per una macchina del cavolo Bruttissima peraltro Gli do fuoco Gli do Gli do Gli do Gli do Due volte Gli do Gli do Va bene Quindi vendiamoci anche questa Concludi ordine Non saliamo di livello Saliremo di livello Nella prossima puntata Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un commento Mi piace Di iscrivervi al canale Se non siete iscritti Di condividere il video se potete E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao